con la geografia del buio, tutta un'indagine sul dolore che si chiude con un pezzo che è cronaca di un tempo incerto accettare l'incertezza per vivere il trauma anche con un significato diverso di trauma per questo progetto qua è oltre un anno di lavoro perché noi ci stiamo lavorando da prima che uscisse il disco e io sapevo già sarebbe stato l'ultimo capitolo di questa parentesi musicale io ci direvo tantissimo che ci fosse un concetto audiovisivo molto molto forte e riuscire a realizzare un corto e presentarvelo oggi per me è un motivo di grande orgoglio per la squadra che c'è dietro che mi ha permesso di poter rendere vera un'idea che stava lì da tanto tutto il disco era stato scritto con un'intenzione cinematica, cinematografica estremamente forte il fatto di poter vedere questo racconto sul trauma diventare una storia, diventare un cortometraggio è bello e insomma io adesso ve lo farei vedere